La storia è la musica. È la cosa che ci rende piccoli e ci mette al nostro posto. È una ragione in più, non solo per sognare, ma per darci da fare concretamente. Una roba da matti totale. In questa follia che sto facendo, difendete. Faccio la guardia del corpo. Grazie. La musica ci permette di alzarci un po' di più. Con Ezio Bosso. Che storia è la musica. Domenica 20 a 30, Rai 3.